Si indaga per omicidio per quanto riguarda la morte di Francesco Ciammaichella, l'uomo di Chieti di 40 anni, trovato senza vita nel suo appartamento al quarto piano di questa palazzina alle mie spalle in via albanese a Chieti. L'uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri con una profonda ferita sul capo probabilmente causata da un corpo contundente. Sul posto i carabinieri che stanno indagando il sostituto procuratore Farasca e il medico legale Cristian Dovidio che ha già effettuato una prima ricognizione cadaverica ma che già in giornata potrebbe effettuare l'autopsia. Dicevamo il corpo è stato ritrovato nel pomeriggio ma la sua morte potrebbe risalire anche diverse ore prima. Ovviamente si attende l'ufficialità da questo punto di vista ma intanto sono già state ascoltate due persone in caserma. Persone che ovviamente non risultano indagate, non si tratta di un fermo ma che probabilmente conoscono particolari sulla vita di Francesco Ciammaichella. Francesco Ciammaichella è descritto come una persona umile, un onesto lavoratore, in bianchino e muratore, lavori saltuari per lui. Soltanto un anno fa ha perso la sua compagna per cause naturali e viveva da solo in questo appartamento al quarto piano di via albanese. Ripetiamo, nelle prossime ore maggiori sviluppi ma l'ipotesi più accreditata da questo punto di vista è quella certamente dell'omicidio.